Una fiaba blu scritta da Antonio Marras, una crema firmata nivea alla sfilata di Milano, prima fila riservata. L'ispirazione arriva dall'atmosfere di un ritratto di Picasso. Antonio Marras, geniale nel trasformare stimoli intellettuali nell'esperienza del saper fare, ha presentato la sua ultima collezione autunno-inverno citando il padre del cubismo. In un gioco di specchi e rimandi, 400 ospiti della sfilata hanno potuto apprezzare un omaggio inedito, un piccolo grande classico reinterpretato dallo sguardo contemporaneo dello stilista sardo. Mi piaceva far scoprire la nivea all'interno di un oggetto, l'oggetto nivea diventava oggetto all'interno di un altro oggetto, e quindi insomma era una sorta di matrioska che tu apri e alla fine scopri questo barattolo che abbiamo un po' rivisto, non nella dimensione ma soprattutto nella grafica così, ed è una sorta di donna, di donnina che contiene, che si cambia di pagina in pagina, che cambia abito, ma la nivea rimane un elemento costante, quindi come dire che questa crema è il fil rouge che forse accompagna la nostra esistenza. La mitica team box, il cuna senza tempo di una bellezza dinamica e mutevole, diventa così protagonista di un fairy book d'autore. La cosa che mi è piaciuta soprattutto era questo, che non era un oggetto di lusso, è un oggetto di culto, però non di lusso, perché tutti poi ho scoperto che lo possiedono, cioè le persone più disparate hanno nella borsa la crema nivea. Mi è piaciuto più questo fatto che questa crema sia accessibile a tutti e abbia però nel suo essere così accessibile una sua eleganza, una sua dignità, una sua compostezza, che è veramente, che ne fa un oggetto classico, è quello che mi è piaciuto. Credo che la nivea sia stata l'oggetto, la crema che ho sempre visto sul comodo di mia madre, sulla sua toilette. Era una crema che solo stava vicino allo specchio e quindi veniva moltiplicata con le immagini, quindi questo barattolo blu con la scritta bianca è un segno, è un oggetto che mi ha accompagnato veramente durante la mia infanzia. E ogni volta che vedo un barattolo con me ho la voglia di aprirla e di annusarla ancora. C'era una volta e c'è ancora quella soffice crema bianca che dal 1911 soddisfa desideri e aspettative di donne, uomini e bimbi. Ti sei ricordata? Certo mamma, eccola qua la nostra crema nivea. Sì, per noi in famiglia non c'è giorno senza nivea. Attraverso i decenni, nivea si fa testimone di abitudini sociali, anticipa tendenze e costumi. Il suo brand, declinato in diverse forme e prodotti, parla le principali lingue del mondo, si muove alle attitudini opposte, si trasforma senza mai perdere identità e rispecchia l'evoluzione del ruolo femminile. La modernità di questa crema bianca come la neve e soffice come la panna non conosce rivali, perché nella sua semplicità sa interpretare e raccontare la bellezza diversa che è in ognuno di noi. Nivea c'era, c'è e ci sarà. Il bianco della crema ti riporta al bianco della luna, se vuoi, al bianco accecante della luce, al bianco della neve. E quindi c'è questo bianco che è un elemento, oltre che visivo, ma è... Ho pensato anche che quando tu sei sull'aereo attraverso, per esempio, le nuvole, sei circondato da questa sorta di ovatta. E così immagini quasi un tuffo dentro questo barattolo bianco, questo barattolo blu con una crema bianca.